Musica Ben trovati dalla redazione di Telebari e Radiobari. In apertura torniamo ad occuparci del Teatro Petruzzelli. Il commissario Fuortes oggi a Roma convoca il sindacato dei lavoratori per il 14 marzo. Ma la CGL non è soddisfatta. Intanto i componenti di coro e orchestra proseguono nella protesta. Ce ne parla Serena Russo. La convocazione chiesa è arrivata ma la CGL non è ancora soddisfatta. Il 14 marzo alle 15, troppo tardi per Torino Fuiano che si aspettava, così come richiesto, di essere coinvolto dal commissario straordinario della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli nel giro di assunzioni operate in questi giorni e che hanno lasciato fuori dai giochi, almeno per il momento, i componenti dell'orchestra e del coro. Ci è arrivata questa risposta ma ce la dà per il giorno 14, quindi per come stanno le cose credo che sia molto lontano, ma molto molto lontano. E poi pensavamo anche già a una data che potrebbe essere quella della presentazione del piano di imprese e invece del piano di imprese non si parla ancora, quindi è soltanto relativo a questo aspetto, peraltro molto lontano come data. Nulla da dire sulle contrattualizzazioni, aveva detto Pino Gesmundo, sintagalista CGL lo scorso sabato, ma vorremmo capirne i criteri. Un comportamento antisindacale di Carlo Fuortes, tanto da far pensare ad una denuncia che sarebbe portuta a partire questa mattina, ma che al momento sembra un'iniziativa congelata. La dobbiamo valutare perché il momento in cui l'abbiamo detto, che non era arrivata alcuna convocazione, ora la dobbiamo valutare da un punto di vista tecnico con lo studio legale, se ancora in piedi da un punto di vista tecnico, politicamente poi lo decideremo. Intanto il commissario Fuortesi a Roma per un colloquio con il ministro per i beni culturali Ornaghi, per esporgli quanto appreso in questi giorni sul bilancio della fondazione e capire quale percorso intraprendere. Potrebbe essere qua una giornata importante questa per il Politiama barese, ma i lavoratori finché non vedono, non credono. E proseguono anzi nella loro protesta sonora, con la nuova idea di diffondere a web i concerti. L'orchestra, orfana di pubblico reale, non si arrende e si accontenta per il momento di spettatori virtuali, e così via con l'overture della Carmen di Lorin Mazel. Trasferimento immediato in carcere per un periodo preventivo di tre mesi è un trattamento differenziato per via del loro particolare status. E quanto deciso oggi dal giudice del Tribunale di Collam per i due Marò Pugliesi, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone accusati di aver ucciso due pescatori indiani in uno scontro a fuoco in acque internazionali. Cambiamo argomento, la maggioranza in Consiglio Comunale si impoverirà giovedì prossimo di altri due elementi. Vediamo il perché in questo servizio. Il prossimo giovedì, data di convocazione della nuova seduta di Consiglio Comunale, la maggioranza si impoverirà di altri due elementi. I consiglieri Giuseppe De Santis e Francesco De Carne, entrambi del Partito Democratico, annunciano infatti per quel giorno l'ingresso nel gruppo misso, così come neanche dieci giorni fa aveva fatto il consigliere della lista emiliano Carlo Paolini. L'apertura a FLI, l'ingresso in giunta della consigliera Maugerio, l'assessore Comunale all'Ambiente, il mancato dialogo con il sindaco emiliano, sono tutti motivi che hanno portato i due del PD a fare quello che da tempo faceva parte dei rumors di Corridoio di Palazzo di Città, ma chiedesse ad un passo dall'ufficializzazione. Noi abbiamo parlato oggi con Giuseppe De Santis. Non avrei mai pensato di lasciare il PD, però la situazione non è più quella che deve essere, quello che ha le ideologie, quello che si pensa di aver vinto con un programma e poi te ne trovi con un altro. Tra l'altro sapete tutti voi giornalisti, io personalmente non ho avuto visibilità politica, sono sempre uno dei più votati, vengo fuori dalla presidenza del Consiglio e non sono stato considerato. Qual è stata la causa scatenante della decisione? Ma la causa scatenante è che il sindaco un giorno dice una cosa e l'altro giorno fa un altro. Otto consiglieri comunali del PD avevamo detto che non volevano una consigliera assessore e lui ci ha trascurati. Quindi l'ingresso in giunta dell'assessore Maugeri ma anche l'apertura a Fli? Dell'assessore non voglio parlare assolutamente perché chi vuole capire capisca. Non è solo l'assessore l'apertura al Fli, è l'apertura in generale a tutti senza consultare la sua maggioranza. Lo switch off in Puglia potrebbe slittare di due mesi. Ad anticiparlo oggi è il nuovo Comitato regionale per le comunicazioni durante la cerimonia per l'insediamento ufficiale. Ce l'ha per noi Silvia Di Pinto. E Felice Blasi, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, il nuovo presidente del Comitato regionale per le comunicazioni. Questa mattina l'insediamento ufficiale è accompagnato dall'intero rinnovato Corecom con la nomina delle due vicepresidenti Elena Pinto e Antonella D'Aloiso. Un comitato che dovrà affrontare un momento difficile con il passaggio previsto per maggio al Digitale Terrestre. Switch off che rischia di mettere in ginocchio tante emittenti locali pugliesi e che per questo potrebbe slittare di due mesi come anticipa lo stesso Felice Blasi. Si parla di un rischio di dimezzamento a livello nazionale da 600 a 300 televisioni locali. Sono dei temi che affronteremo con la G-Com nazionale. Il passaggio al Digitale è previsto a maggio, potrebbe persino slittare. È stata una richiesta delle tv locali quella di slittare di un paio di mesi per risolvere alcuni problemi anche tecnici. La regione Puglia ha stanziato 10 milioni di euro destinati alle televisioni locali per l'aggiornamento tecnologico, ricorda il presidente del Consiglio regionale Onofrio in trona. Entro marzo sarà pronta la graduatoria. Io ritengo che con 10 milioni di euro le emittenti possano trovare le ragioni per procedere ad un importante aggiornamento tecnologico. Un nuovo sito web, convenzioni con le diocesi, protocolli d'intesa con i consigli notarili. La Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari traccia un bilancio del suo diciottesimo anno di attività. Sentiamo le parole del presidente Monsignor Alberto Durso che annuncia che per il 28 aprile ci sarà un concerto di beneficenza con Albano. Oggi avete tracciato un bilancio delle attività del 2011, un commento su questo bilancio. Sì, questo bilancio è positivo per gli ascolti che abbiamo realizzati. Lo scorso anno abbiamo incontrato 350 famiglie nuove, oltre le altre famiglie che già con noi avevano un dialogo. E per tante persone è stato possibile provvedere ad aiuti che hanno permesso anche per esempio di impedire che vendi casi, potessero essere vendute le case. Continuo l'opera della Fondazione per favorire anche gli atti notarili, già che abbiamo trovato la disponibilità dei notai su tutti i distretti notarili di Puglia, la disponibilità di questi notai ad annullare o quasi le spese. Così ancora con una serata di beneficenza che ci ha offerto il cantante Albano, ci ha offerto l'orchestra della provincia, e anche il teatro team e anche altri artisti come Stornaiolo, la Vincenti. È cominciato questa mattina il trasferimento dei 150 cani fino a ieri ospiti del rifugio Vassallo nel nuovo canile comunale. La struttura però non è ancora pronta e non mancano i rischi per gli animali il servizio. Margot ha già trovato il suo angolo di pace, fatto di terra e poco cemento. Fino a ieri era ospite del rifugio Vassallo ed è stata trasferita questa mattina insieme ad una ventina di cani, in quello che diventerà il nuovo canile comunale nella zona industriale di Bari. Entro il fine settimana dovrebbero arrivare qui altri 125 quattro zampe, provenienti dalla struttura di via Vassallo gestita dall'ACA Onlus, sotto sfratto ormai da due anni. Certo far vivere i cani in un cantiere non è una soluzione priva di rischi, che ammette preoccupata Anna Dalfino, presidente dell'ACA. Il canile sarebbe infatti dovuto essere pronto già dai primi mesi del 2011 ed invece ci vorranno almeno altri quattro mesi per l'inaugurazione ufficiale. Intanto urge mettere a punto piccoli accorgimenti per gli animali meno tranquilli, reti più resistenti, magari anche sui muretti che dividono le cucce. Qui non è ultimata la struttura, per cui siamo molto preoccupati, ma vedo che c'è una grande attivazione sia dell'impresa che dei direttori dei lavori, dell'ASI. Veramente è una grande squadra. Ed ora la pagina degli spettacoli. Caldane, una meacci terapeutica al Teatro Forma di Bari. Vediamo il servizio. Ma la cosa fondamentale, dicevo, è eliminare tutta la lana dal guardarocco. Perché è un caldo. Un caldo. Di giorni. Di notte e un minuto. L'attrice toscana Anna Meacci sabato ha portato a Bari il suo nuovo spettacolo Caldane. Sul palco della Fondazione Orfeo Mazzitelli ha affrontato in chiave ironica un tema scottante come la menopausa, argomento di cui le donne spesso non vogliono parlare. Uno spettacolo che piace anche agli uomini, che spesso sono vittime di questo tabù. Da quando abbiamo debuttato l'estate scorsa, ad agosto dell'estate scorsa, ho visto le donne liberate dall'incubo della menopausa. O meglio, hanno trovato la chiave per poterci ridere su. Perché, insomma, è un momento delicato. E io lo racconto in maniera ironica. Ma dove tutte le donne si riconoscono, anche gli uomini, nel senso, anche quegli uomini che hanno accanto delle donne, che hanno vissuto, stanno vivendo questo momento, che, insomma, starci accanto non è tanto facile. Va detto. Prossimo appuntamento per la rassegna comica Donne da ridere sabato 10 marzo con Barbara Foria, in Meglio un uomo oggi che un marito domani. In Cisora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Cielo irregolarmente nuvoloso, temperature con valori compresi tra i 15 e i 6 gradi, venti da deboli a moderati meridionali, mari da poco mossi a mossi. E vi ricordo i nostri siti internet, telebari.it e radiobari.net. È tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.